Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Vogliamo iniziare questo momento d'incontro rivolgendo al Signore la Lode che ci presenta oggi il Salmo responsoriale. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti è celso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole e dall'immondizia rialza il povero. C'è un solo Dio, fratelli, è il Dio dell'amore. E un giorno, al di là di questa vita, potremo contemplare questo amore, venendo noi stessi immersi pienamente in questo amore senza più il velo del nostro corpo, il dono della vita eterna. E quando ci aspetta, è quello che Gesù ha proposto a tutta l'umanità con il suo Vangelo, quando ha presentato la realtà della vita eterna. A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero? Dice, se puoi perdere l'anima sua. Grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. E San Paolo, nella prima lettura che ascoltiamo oggi, dalla prima lettera al suo discepolo Timoteo, fa una grande professione di fede. Lui, persecutore della Chiesa, persecutore di Gesù Cristo, si vide oggetto di quella benevolenza divina che gli toccò la vita, lo trasformò, per cui entrò in questa grande convinzione. Questa parola, dice, è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo di quali sono io. Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori. È un'affermazione assoluta, fratelli. Ma quello è un grande, è un nerone. Gesù è venuto per salvarlo. Gesù è venuto per portare la salvezza ad ogni creatura su questa terra e a rinnovare anche il mondo che ci circonda, che è così contaminato, degradato. Lo stiamo vedendo nei nostri giorni. Solo alluvioni. Si aspetta l'acqua e vieni. Ora alluvioni o la siccità. La terra sta soffrendo. Gesù è venuto per rinnovare tutto. È venuto nel mondo per salvare i peccatori. E l'Apostolo si confessa, il primo dei quali sono io. Perché il primo? Perché ha perseguitato il figlio di Dio, che aveva perseguitato la Chiesa. Ma l'Apostolo scopre però, in questa benevolenza, che il Signore gli ha dato, un piano di Dio su di lui. Perché? Perché se Dio ha convertito e ha salvato il suo nemico, vuol dire che lui vuol salvare tutti. Vedete come San Paolo ha maturato questa visione, non soltanto attraverso la rivelazione, ma attraverso i segni chiari. Avendo Dio salvato lui, che era il persecutore, vuol dire che Dio vuol salvare tutti. E quindi lui ha maturato questa visione e la visione della volontà di Dio, che vuole salvare tutti i peccatori, sperimentandolo in sé stesso. E ha colto il segno, il messaggio di Dio, in quest'opera che lui stesso aveva accolto nella sua vita, l'opera della misericordia di Dio. Perciò aggiunge, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia. Perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, grandezza d'animo. E io fossi esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Lui diventa una testimonianza. Ci sono tante persone, fratelli, che nella vita hanno sbagliato, ma che con umiltà annunciano quanto Dio ha fatto per loro, come il Signore ha cambiato la loro vita, ha trasformato, pensate a Bruno Cornacchiola, che stava preparando un discorso contro la Madonna, e la Madonna le apparve proprio in quella circostanza, proprio quando lui la stava per offendere più che mai in un convegno la Madonna le manifestò tutta la benevolenza di Dio. E quindi divenne un grande segno. Tanti peccatori hanno cambiato la loro vita. Sant'Agostino nella Chiesa è rimasto un grande esempio di misericordia di Dio, che lo ha convertito, lo ha salvato. E la lista potrebbe essere interminabile, perché tutti i giorni il Signore aggrega nuove anime al suo greggio, nuove pecorelle, che Lui ha riscattato a prezzo del suo sangue. Ma questa verità, fratelli, deve essere ben radicata in noi. Tu vedi un peccatore, Dio lo vuole salvo. Uno sta facendo del male, Dio lo vuole salvo. Dio condanna quel male che sta facendo, ma lo vuole salvato, perché Dio è il Salvatore. Come dice per bocca del profeta Isaia, capitolo 45, il mio nome è Salvatore, perché io sono colui che salva. Se tu ti avvicini a Dio, ti salva soltanto, se tu accetti naturalmente, ma la sua volontà è sempre e solo la sua salvezza. E Gesù è questa volontà di Dio manifestata apertamente. Gesù, Salvatore, è venuto in questo mondo. E chi incontra Gesù, incontra la salvezza. Ricordate la Maddalena, ricordate Zaccheo, ricordate la Nultra, ma ricordate tanti peccatori. Come dice San Luca, al quindicesimo capitolo, tutti i pubblicani peccatori andavano in cerca di Gesù per ascoltarlo. Mentre scrive fare sei, mormoravano di lui, dicendo, costrui accogli i peccatori e mangia coloro, si scandalizzavano, ma Dio è il Salvatore. E Gesù può dire, beato chi non si scandalizza di me. E lui perciò mangiava con i peccatori, li andava a trovare, li andava a scovare. Zaccheo non se l'aspettava che Gesù andasse sotto quella pianta ad autoinvitarsi a casa sua. Non se l'aspettava, come tanti di noi fratelli, non si aspettavano che Gesù li visitasse e manifestasse la sua misericordia. Allora facciamo entrare dentro di noi questa visione di San Paolo. Ogni fratello che incontriamo, ogni persona al mondo, anche tra quelli che stanno, meglio, che vogliono distruggere la Chiesa, che vogliono dare la fede su questa terra, anche quelli sono figli che Dio ama e che vuole salvati. Perciò Gesù a Santa Catarina da Siena insegnava a pregare anche per i nemici, perché diceva Santa Catarina tu vuoi anche la salvezza dei tuoi nemici, per questo ci chiedi di pregare per loro. E se sempre questo non avviene, non dipende dalla carenza della volontà di Dio, forse della carenza della prestazione del popolo di Dio che non è sempre pronto ad accogliere coloro che sono lontani. E questa è la conversione che la Chiesa deve fare, fratelli, in questi tempi tornare a Dio e accogliere i peccatori, andare in cerca dei peccatori, ma sacrificandosi per loro, digiunando per loro, perdonando per loro, soffrendo insieme a loro perché possono ritornare alla casa del Padre. e Gesù nel Vangelo ci dà un insegnamento molto molto semplice quando afferma che un albero buono dà frutti buoni. Non si può cogliere l'uva dalle spine o i fighi dai rovi. Ogni pianta fa il frutto che dipende dalla sua natura. Così ciascuno di noi fa frutti a seconda di ciò che è dentro di noi. quindi noi non possiamo pretendere di produrre dei frutti se il nostro cuore per non sempre non si è purificato dalla malizia, dall'attaccamento al denaro, alla gloria, alla vanità, alla superbia, all'odio, alla vendetta, quando uno è dentro di sé e quest'odio non può amare. Sti giorni parlando con una cara signora che ha voluto aprire il suo cuore e mi ha manifestato il suo stato matrimoniale ma questa signora portava dentro di sé dei grossi risentimenti che provenivano dalla sua famiglia di origine. Giustamente gli ho chiesto ma come potevi tu dare il tuo cuore a tuo marito quando questo cuore era pieno di risentimenti per tutti i dolori che tu hai attraversato, le ingiustizie subite, le umiliazioni e via dicendo, allora prova, prova a perdonare. Abbiamo cominciato a pregare per la liberazione di quel cuore e allora cominciato anche a facciarsi un amore nuovo per la famiglia. Ogni pianta dà il frutto corrispondente. Per questo, fratelli, ricordiamo anche l'insegnamento che ci dava Gesù in questi giorni. Se tu non vai d'accordo con quella persona sia familiare o no, prova a chiederti cosa c'è in me che impedisce all'altro di venire d'accordo con me. Cominci a togliere la trave dal tuo occhio per vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo con l'occhio innocente, senza pagliuzza nei tuoi occhi e hai potuto vedere nel peccatore figli del Padre per i quali tu sei venuto a dare la vita sulla croce per la loro salvezza. In te non c'era nessun ostacolo a lasciarti amare, perdonare la vita a tutti, per salvare tutti. Oggi, Signore, libera anche i nostri occhi, soprattutto libera il nostro cuore da ogni impedimento alla fede e all'amore perché la nostra vita nelle tue mani diventa una lode al Padre e uno strumento di salvezza per tanti fratelli che incontriamo sul nostro cammino perché questa è la tua volontà che tu vuoi che tutti i peccatori siano salvati. A te salga la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori. Vergine Santissima oggi noi ti invochiamo come la madre dei peccatori e tu soffri per quei peccatori non vuoi la loro distruzione non vuoi la loro perdizione insieme al cuore di Gesù tu hai offerto la tua vita per la salvezza di tutti i peccatori. Oggi accogli e grido che si innalzi a te anche in modo inconscio dal cuore di tanti fratelli e sorelle che si trova uno schiavo del peccato e col tuo amore di madre soccorri e apri il loro cuore all'ingresso di Gesù nella loro vita perché Gesù sia il loro salvatore e le riconduca alla casa del Padre a Gesù gloria e onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutti voi nelle mani della Madonna fratelli siate strumento di benedizione e di salvezza per tanti che stanno cercando Dio anche senza saperla. Amen.